Una figlia molto a cavallo da quando aveva un anno. Sei pronta per diventare una mazza. Vestirmi bene, avere stile, per me è molto importante. Facciamoci belle come le ragazze di Roma Nord. Sono la regina dei 50 anni. Saremo delle stranioccone quest'estate? Io non ne stringerei tanto. No, 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 stringimi da morire. Cioè, non farmi respirare perché il vestito sia perfetto. Io vivo nel mio mondo. Il mondo di Katia, che è un mondo meraviglioso, non me lo togliete. Ciao!